Buon pomeriggio a tutti cari amici dal vostro carissimo amico Giacomo Introna. Buon pomeriggio, iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna, condividete e mettete un like se vi piacciono i miei video. Buon pomeriggio a tutti dal vostro carissimo amico Giacomo Introna. Oggi, 6 dicembre 2022, buon pomeriggio a tutti. Iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna, iscrivetevi, iscrivetevi numerosi al mio canale Giacomo Introna. Tanti video, tante novità che ci aspettano. Arrivederci e buona serata a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti cari amici dal vostro carissimo amico Giacomo Introna. Ciao ciao!